Il grande ritorno dopo la grande avventura estiva Bene, eccoci ancora insieme E' la penultima puntata del 1995 95 è splendido Che inizia con il pubblico più splendido di Dalia Il pubblico che addirittura è così meraviglioso Così insostituibile Così inimitabile Che si fa la sigla da solo Eccoli Siete pronti? Via! Va bene così Alla grande Ancora, forza Andate a tempo Perché avete delle difficoltà in questo Vai! Voglio un po' d'aria Che sta spalanchiamo un api E raggiungiamo dentro la tv Taccion un po' d'aria In questa raggiungiamo con la testa Non guardiamo quello che vuoi più Rividi Che si può fare Se non c'è di su Rividi Non spunta il sole Se non ridi tu Bravissimi! Eccovi qua! Buonasera 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 Bravi, bravi Stasera che siete stati veramente bravi Avete quasi superato voi Buonasera